Popoli come il vostro, con il vostro paese, perché c'è la possibilità di fare molto insieme. Avete un paese bellissimo, un paese che può diventare un grande paese che sfrutta la risorsa del turismo e possiamo aiutarci, aiutarci insieme, cooperando, costruendo le condizioni perché sempre di più le vostre bellezze vengano visitate da tanti portando ricchezza nel vostro paese. Vi voglio salutare dicendovi alla fine che un grazia. Io non sono tra quelli che pensano che una città come Milano, in cui vivono e convivono tante culture, tante vie, tante religioni diverse, sia una città per questo sfortunata. Io penso invece che sia una ricchezza e voglio ringraziarvi per esserci perché io penso che Milano possa essere, che debba essere una città sempre più bella, sempre più capace di crescere i nostri bambini in una condizione migliore se noi riusciamo a integrare le diverse culture e una città diventa non meno, ma più bella se tante culture contribuiscono a farla grande. Questo abbiamo cercato di fare in questi anni, questo abbiamo cercato di fare con Expo, questo cerchiamo di fare continuamente e chiediamo a tutti e vogliamo che tutti siano protagonisti di tutto ciò. Chi pensa di essere ospite sbaglia. Noi vogliamo che siate cittadini a pieno titolo di questa città. Grazie.